Questo messaggio è rivolto a tutti coloro che si dicono cristiani ma non hanno la vita eterna. Ce ne sono tanti che domenica dopo domenica si recano al culto partecipando al culto ma non hanno la vita eterna. Non confessano di possedere la vita eterna perché non ce l'hanno. Quindi non hanno la certezza che quando moriranno andranno in paradiso ad abitare con il Signore. Non hanno assolutamente questa certezza. Quindi questa mia predicazione è rivolta a loro. Ascoltatemi. Perché non avete la vita eterna? Eppure vi definite cristiani? Siete stati magari anche stati battezzati in acqua? Avete anche magari qualche incarico nella comunità che frequentate? Però non avete la vita eterna. Perché non avete la vita eterna? Non avete la vita eterna perché non credete. Non credete nel Signore Gesù Cristo. Ossia non credete nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Perché vi dico con assoluta certezza che voi non avete la vita eterna perché non credete? Pur definendovi cristiani. Perché la scrittura dice che chi crede nel figliuolo ha vita eterna. Gesù Cristo, il figlio di Dio, un giorno disse queste parole. Chi crede ha vita eterna. Questo perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. Dunque, chi crede nel Signore Gesù Cristo ha la vita eterna. Ecco perché l'Apostolo Giovanni, nella sua prima epistola, ha detto queste parole ai Santi. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figliuolo di Dio. Vedete dunque, coloro che credono nel Signore Gesù Cristo hanno la vita eterna. Non è che sperano di avere la vita eterna o pensano di guadagnarsi la vita eterna o di appropriarsi della vita eterna fetta perfetta perché ci sono anche costoro. No, coloro che credono nel Signore Gesù Cristo hanno la vita eterna perché questa vita è nel figliuolo di Dio. Così infatti è scritto. Il Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliuolo. Infatti, Gesù Cristo è la vita eterna che era presso il Padre che ci fu manifestata. Per quello chi ha il figliuolo ha la vita. Dunque, voi non avete la vita eterna perché non avete il figliuolo di Dio. non credete nel suo nome. Ecco perché avete paura di morire. La paura di morire è parte della vita di coloro che non credono. Sì, fa parte della loro vita perché non avendo la vita eterna hanno paura della morte. Coloro che invece hanno la vita eterna non hanno paura della morte. Non importa in quale momento la morte potrebbe sopraggiungere nella loro vita, coloro che credono nel Signore Gesù Cristo sono pronti. o meglio, hanno il desiderio di dipartirsi dal corpo ed andare ad abitare con il Signore perché hanno la vita eterna. Quindi hanno la certezza che quando moriranno, forse anche improvvisamente, hanno la certezza che la loro anima si dipartirà dal corpo ed andrà ad abitare con il Signore nel cielo. Voi dunque non avete questa certezza e non avete neppure questo desiderio perché questo desiderio è solamente di coloro che credono nel figliuolo di Dio. Allora, io vi esorto a ravvedervi e a credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparva i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è quello che dovete credere per avere la vita eterna. Nel momento in cui crederete nella buona novella che Gesù è il Cristo, sarete salvati dai vostri peccati perché voi non solo non avete la vita eterna, voi siete anche schiavi del peccato perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Allora, nel momento in cui crederete nell'Evangelo, cioè nella buona novella, sarete affrancati dal peccato che non vi signoreggerà più perché sarete resi liberi. Non solo, otterrete anche la remissione dei vostri peccati, sì, sempre credendo nel nome del figliolo di Dio perché di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Sì, riceverete la remissione dei peccati. I vostri peccati saranno cancellati, non solo. Otterrete anche la giustizia di Dio basata sulla fede, la giustizia che viene da Dio che si basa sulla fede. Quindi sarete giustificati, resi giusti e vi sentirete agli occhi di Dio giustificati perché Dio vi metterà la vostra fede in conto di giustizia. Vi imputerà la giustizia senza opere. E dunque, oltre ad avere la vita eterna, avrete la salvezza, la remissione dei vostri peccati, avrete la giustizia di Dio e naturalmente diventerete figlioli di Dio perché la scrittura dice che a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto o l'autorità di diventare figlioli di Dio, quelli cioè che credono nel suo nome. Questo significa che voi adesso non siete figlioli di Dio, siete figlioli di ira perché non credete nel suo nome, nel nome del figliolo di Dio. Ma nel momento in cui crederete nella buona novella, allora diventerete figlioli di Dio. Sangue di Gesù Cristo vi purificherà da ogni peccato e quindi avrete la gioia della salvezza. La gioia della salvezza che voi non avete in questo momento. Sì, voi fate finta di essere contenti, ma non siete felici perché non credete e non credendo non siete salvati. Ma nel momento in cui crederete avrete la gioia della salvezza, una gioia ineffabile e gloriosa, una gioia che possiedono solamente coloro che credono nel nome del figliolo di Dio. Allora avrete la certezza che quando morirete andrete ad abitare col Signore. Ma non solo la certezza, avrete proprio il desiderio, il desiderio di andare ad abitare col Signore perché è cosa di gran lunga migliore. Desiderio che non potete avere adesso appunto perché in questo preciso momento voi siete ancora sotto il peccato, siete quindi schiavi del peccato, nemici di Dio e siete sulla via della perdizione. Sì, siete sulla via della perdizione. Anche se vi definite cristiani, anche se pregate, anche se fate qualche lemosina, anche se cantate, non avendo la vita eterna voi dimostrate appunto di non credere e quindi siete degli increduli e sapete la fine che fanno gli increduli quando muoiono? Gli increduli vanno all'inferno. Sì, perché esiste il paradiso, ma esiste anche l'inferno. Il purgatore no, non esiste. Il purgatore è un'invenzione, un'invenzione. Ma l'inferno è un luogo reale, un luogo di tormento dove c'è il fuoco, dove le anime di coloro che appunto vi scendono sono tormentate. E voi siete diretti là. Ma dove pensate di essere diretti voi? all'inferno. Doveste morire in questo momento, voi che non credete nel nome del figliolo di Dio, ve ne andreste direttamente all'inferno, nei tormenti, in mezzo al fuoco, perché all'inferno c'è il fuoco. Quindi, sappiate questo. Vi dovete ravvedere, cambiare modo di pensare, abbandonare quindi i vostri pensieri vani e iniqui. E poi dovete credere nell'Evangelo. Altrimenti, perirete. Perirete, sì. Vi hanno illusi i vostri pastori? Eh? E certo, vi hanno illusi, vi hanno fatto credere che anche se non crederete sarete salvati lo stesso. Vi hanno illusi. Io non vi illudo, però. Io vi dico la verità che è in Cristo Gesù. Quindi, chi ha orecchi da udire? Oda.